Ciao a tutti ragazzi e bentornati su The Division, è un po' che non salutiamo. Ciao a tutti, io ho salutato, non saluti. Perché è un attimo, ecco. Ecco, bravo. Perché... Sempre questo saluto militare, io non lo so. Vabbè, cosa faccio? Faccio anch'io. Ciao a tutti, ecco. Perché siamo stati un po' presi tra una missione e l'altra, insomma. Veramente presi, molto. Poi non lo so, a me è capitato che il gioco mi si chiudesse pure, per questo in certi punti magari abbiamo dovuto tagliare, o errori strani, non lo so. Non lo so. Vabbè, comunque adesso proseguiamo con le nostre missioni. Sì. Accademia di polizia. Vai. Ma andiamo. Che dobbiamo fare? Troviamo il punto d'origine del segnale. Ho trovato, ce l'ho io, ce l'ho io. Dove? È uno scherzo. Ah, che burlona. Oddio, se va sempre sotto, ma come mai? Aia, aia, attenzione, attenzione. Io indago. Scusi, eh. Io ti compro le spalle, eh. Ecco. Tipo arrivo, hai visto? Via, via, via. Eccoli, eccoli. Ma che te ne ho realizzati? Ah, io ho sbloccato la mina. Attenzione, lancio la mina. Faccio un po' di fuoco e fiamme. Oh. Ma non di venire davanti, che poi io non vedo niente. Cos'è? Ecco. Lancio una granatina. Morto. Eh no, però me l'hai ammazzato. Ok. Lancio la granatina. C'è il battaglione. Mi puzza. Vedi se trovi l'agente scomparso, ma fai attenzione. Questa è per forza una trappola. Eh, il battaglione. Che, che, che. Battaglione, battaglione. Vabbè, io... Ma aspettami un attimo. Eh, ma scusa, sei in ascensore. Ecco, ecco, sono salita. Scusi, scusi, scusi. Dove vai? Ma io non lo so. Scusi, ma hai visto che sono entrata e esci? Oddio, è buio. È andata via la luce, è la corrente? Ma no, starà caricando. Soffro di claustrofobia. Usciamo da sta ascensore. A posto. Ah, ecco, qua, di qua, di qua. Ma dove siamo? In un museo? In un museo, shh. Uh, guarda che bella albera. Ah no, New York Police Academy. Ma scusa, ma c'era il mustro. Giusto. Madonna, quanti so. Aspetta, lancio la mina, lancio la mina. Guardate, in azione. Uno è scappato. Come cacchio ha fatto a sapere che siamo là? Ecco. Aspetta. Si ci massacrano. Ecco, morto. Devo riprendere un attimo fiato. Aspetta, eh. Vai, respira. Stai coperto, stai coperto. Respira, respira. Ok, questo è morto. Sto riprendendo fiato, eh. Occhio, occhio. Quello è... Mazziccio è incazzato. Ok, è morto, è morto. Se hai bisogno di cura, avvicinati un po' qui. Sì, ma questo qua stupidamente mi si è avvicinato, hai visto? Ok. Alle spalle, attento alle spalle. Sparo io? Ecco, ecco, fatto, fatto. Ecco, ecco. Fermo così, non te muove. Grazie, mi sono ricaricato completamente la vita. Hai visto? Sto cacchio di faro, pensavo che era un cecchino. Vaffa all'uovo, va. Dobbiamo proseguire. Sì? C'è nessuno? Andiamo su. Vamos. La minimappa dice che ci sono nemici, infatti. Oddio, 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 infatti, infatti, infatti. Riforza magari questo, eh. Eh no, ho messo la mina, ho messo la mina. Ah, ecco, con la mina stiamo a posto, proprio. Guarda questo se muore, eh. Devi morire, maledetto. Aia. Attenzione sopra, attenzione sopra. Sopra c'è il cecchino, c'è il cecchino. Bisogna uccidere il cecchino sopra. E aspetta. No, l'è morto, l'è morto. Brava, 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 brava. Ok. Questa altra è morto. Mancano uno. Morto. Avanziamo? Possiamo avanzare? Sì. Qui dice che ce l'abbiamo praticamente dietro. E sarà sopra, secondo me è sopra. Ho paura, ho paura. Allora, diamo un'occhiata. No, qui non c'è un cacchio. I fornimenti. Un cavolo. Dove, eh, dov'è, dov'è, dov'è? Qua, dove sono io? Ok, arrivo, arrivo. Arrivo. Anche dice che è sopra, ma... Provo a lanciare una mina, vediamo. Che è la mina inseguitrice questa. Insegue i nemici. Fenomeno, sta mina. Eh, li sento, li sento, li sento. Oh, ma guarda a te. Ok. Eh, che bordello c'è? Non morire, eh. Non morire, non morire. Se vieni in questa stanza, c'è... Madonna, aspetta. Aspetta, io c'ho lo scudo. C'ho lo scudo. Se vieni in questa stanza, c'è... Ma che sta arrivando uno. L'ho ucciso, l'ho ucciso. Aia, aia. Alle spalle, mi hanno preso. Alle spalle. Siamo nello stesso posto. Non so se l'hai visto. È andata, è andata, è andata. Aspetta, fermo, 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 fermo. Ok. Non c'ho la mina ancora, mi diverto. Vai, vai, vai. Se diverte. Vai. Non fa tanti danni, però magari... Rasponderti, non ti senti da niente. Morto. Quindi? Quindi, boh, non lo so. Dobbiamo prendere l'ascensore di nuovo. Di qua, di qua. Che piano, che piano. Perché non ci sono i piani, cioè? Ma perché si scurisce lo schermo? Cioè, ma io voglio dire, no? Che sta caricando, no? Non capito, ma faccio vedere che siamo in ascensore, ecco così, no? Non c'è bisogno di scurire, voglio dire. Eh, boh, boh. Ecco, abbiamo compagnia. Attenzione, attenzione, dov'è? Dov'è? Chi sono? Oh, dietro, 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 di là. Bravo, vai davanti tu, io ti vengo dietro. Vai, tartaruga ninja. Vado, vado. Con questo scudo mi sembri veramente un tartaruga ninja. Sconfiggi gli assalitori. Eh, attenzione, attenzione, e mi metto qui, mi metto qui, mi metto qui, qui, qui. Bravo, bravo. Muori, maledetto, mori, mori. Ahia, ahia, non ho più lo scudo. Attenzione, attenzione, attenzione. Oh, oh, oh. No, mi ha preso prima di morire, come ha fatto? Ah, non posso funzionare. Adesso ti rianima, adesso ti rianima lui, non ti preoccupare. Ah. Visto? Questa è una mano santa, direi, eh. Eh, beh. Attenzione, attenzione. Però vorrei colpirli, ma non ci riesco. Ahia, ahia. E dai, spostati. Cioè, ho curato lui, invece. Ho curato lui, invece. Ma no, dai, ti derai qua dietro l'angolo, mi chavo visto. Ecco. Mi allontano un attimo, eh, mi allontano un attimo. Sì. Sennò mi prendo. Sì, tanto io faccia a terra. Vieni verso di me, vieni verso di me. Non posso, sono morto. Ah, ah, sei proprio morto. Aspetta, fammi eliminare, sennò... Ecco, brava, elimina, elimina prima. Cazzo. E invece no, mi ha... Dove devi fare partire, scusa. Vieni a partire, spero, vicino a te. Fammi vedere. Dove sono? Vieni, vieni, sì, sì. Sei dove... Dove sei morto? Ah. L'ho ammazzato di tutti, ma non l'ho fatta in tempo a venire a prendere. Adesso mi sto curando un attimo perché mi hanno quasi ucciso di brutto. Uno zaino, uno zaino. Kit medico. No, dai, pensavo che c'era una granata. Cerchi di non morire perché non posso rimettere il coso medico adesso. Bombetta, bombetta, bombetta. Quella... Aria, fighissima, fighissima. Fighissima, attenzione. Ma dai, ma figlia. Andrei un'altra, un'altra, un'altra. Oh. E dai. S'avvicinano, s'avvicinano. Che cavolo. Ok. Ok, vai. Uno alla volta, ragazzi. Vi ammazzo tutti. Senta. Non sai dove scappare, eh. Non sai dove nasconderti, eh. Morto. Eh, che cavolo. Quanti sono? Attenzione che quello c'è la corazza, eh. Bombetta. Dovoglio, coio. Non so dove ho colto. Cerca di non morire, perché non posso rimettere il coso medico, eh. Ci provo, ci provo. Eh, sono morto. Allora, vieni verso me, vieni verso me. Arrivo, arrivo. Arrivo, tu stai riparata, che arrivo io. Eccomi. Aspetta, aspetta. No, no, porca vacca, ho sbagliato. No, invece, mi pensavo che mi hai preso, eh. Attenzione, 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 attenzione. Arredra, arredra, arredra. Dove va? Va qua. E dai, tutto, tutto il caricatore. E non è morto? Aspetta. Manca poco, però, manca poco. Dai, fatti vedere. Non si alza, non si affaccia. Oh. Cioè, ha messo una mitragliatrice. Ma gli mortacci, stracci. Si è distrutta la cosa, sì. Sì, sì, sì. Si è distrutta da sola. Dura pochissimo, devo dire. Vai, vai, mina, mina, vai. Oddio, oddio, sta cosa mi fa ammazzare. E siamo un cagnonino. È andata a segna, almeno? Eh, può essere. Ce n'è rimasto uno solo, giusto? Sì. Quindi, volendo, possiamo avvicinarci un pochino. Mi avvicino. Vai, è tutto. Oh, è duro. Mamma mia, mamma mia. Ci è mancato poco. Quasi morto, quasi morto. Ma, Fili, come ha fatto? Mi ha ucciso in un colpo solo, quasi, eh? Cioè, incredibile. Aspetta, aspetta. Vieni verso di me. Aspetta, mi avvicino io. Con calma. Mi ha chiamato, maledetto. Con castelli. Eh, ma ho capito, di un ammazzo a questo. Molto. Oh, grazie. Dove sei? No, sono vivo. Siete che l'hai ucciso, è stato nato in vita. Eh, sì, meno male, meno male, ma. Meno male, meno male. Vabbè, non c'è niente da prendere. Eh, no, aspetta, c'è una cassa di fornimenti. Qui non c'è niente da fare. Tutti questi computer, questi monitor, questi cognette. Eh, super bellezza, vedi. Ah, ok, vai avanti di te. Va, dobbiamo andare qua. Non c'è niente. Attenzione, agente. C'è un eco nelle vicinanze. Ehi, quindi? Devo aver paura, lo so, eh. Io ho paura dell'eco, eh. Perché va, ti uccido, Ido, Ido. Uh, stiamo in palestra, vai. Facciamo un po' di attività fisica, va. Oh, oh. Un po' di attività fisica, va. Un po' di attività fisica, va. Io ti ho dato la possibilità di lavorare con me. E tu, invece, hai deciso di tradirmi. Per l'amore del cielo, non farlo. Hai bisogno di aiuto, stai diventando pazzo. Stai dando contro a quello con la pistola. Secondo me il pazzo sei tu. Io ti dirò, mi sento particolarmente sano. Un momento, ho quasi finito qui. Arrivo subito. Non può essere vero. Nel video ci sono agenti della divisione che disertano, che si uccidono a vicenda. Non è... No. Dai, no. Ok, concentriamoci sul lavoro. Sembra che la tecnologia shade usata per creare l'eco sia stata hackerata. Non riesco a scoprire l'identità dell'agente. Se qui vicino c'è una stanza di sicurezza, potremmo cercare di scoprirla. Se riesco ad accedere ai filmati di sorveglianza e se non sono stati cancellati. Ok, allora dobbiamo andare... Cioè, dobbiamo accedere al sistema. Qui, qui, qui. Aspetta, qui. Qui dove? Scusa, eh, ma... Ma mi prendi in... Ah, qua forse. Andiamo. Ah, io non so. Dovevamo salire. Ma lo sapete io. Ok. Ok, quindi... Attenzione, nessun'area di rientro. Non è che mi piace molto sta cosa. Quindi dove andiamo? Scusate. Non lo so. Di qua, forse. No? Cacchio, sapevo io. Oh, porca. Attenzione, attenzione. Ma dove? Si è aperta quella porta. So da che parte arrivano. Ah, qua, qua, qua. Oh, cacchio, cacchio, cacchio. Vai, vai, vai. Merda. Ma che è, oh? Ma che è? No, mi sono incastrato. Eh, vabbè. No, aspetta, aspetta, aspetta. No, porca. Ma non me lo dico. Non ci voglio credere. Non posso mettermi niente. Morti. Ecco, poi ti spiego. No, dobbiamo superare sto pezzo, dai. Poi tagliamo tutto, però. Sì. Allora, all'inizio hai capito, no? Come si fa? Rilevo degli agenti della prima ondata in zona. Ma non rispondono ai miei segnali. Sì, dai, apri sta porta. Cioè, devi proprio... Una bottega di birra, no? Una birra. Vai, bombe a manetta adesso. Eh, che cazzo. Oh. Cazzarola, poi sto coso che mi se... Oh, ok. Vai, vai. Ma vieni fuori, bastardo. Ma che te conquisti, la portazione di chi? No. Vai. Ok, vai. Ok, fin qua tutto bene. Tutto bene. Adesso gli viene il brutto. Adesso c'è il cecchino lì che va a chiamare Big Jim. Sì. Incredibile Hulk. Eh. Non ho neanche più bombette. No, io ne ho. Fortunatamente. Però se si muove a chiamarlo, magari, diciamo... Aspetta. Eh? Ecco, ecco. Ma che arriva? Sta scendendo. Ho messo i proiettili esposivi, vedi? Ah. Sto finito, naturalmente. No. Non c'è bombette? Eh, sì, ma... Aspetta. Vediamo se becco qualcuno. Boh, non ho capito. Se ho beccato qualcuno, ma va bene. Ecco, così becco qualcuno. Bene. No, vai che è esposto. Beh, vabbè, cazzo. Sta arrivando, eh. Sì. Ci dobbiamo preparare a spostarci, eh. E facciamo sul serio. Cazzo, mi sto morendo. È armato... Bello che è corazzato, è armato fino ai denti, infine. Questo è morto. Vai. Non ho più bombe, non ho più bombe. Ha messo giù la torretta, ma ci mi frega poco, visto che... Siamo coperti. Metti in port... Così, riparo. Non ce l'ho, Fide. Ah, attenzione, attenzione, che uno sta entrando di lato, di là. Via, 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 via. Che situazione difficile. Di merda, no? Che... Aspetta che metto. Sai che questo è morto, Fide. Madonna Scansati, levati, levati Non ho più che ti mi dici Aiuto Aiuto Ah grazie, mi hai curato anche a me Ma sta salendo Ma ti dico fermo Ma io ero fermo Occhio che sta arrivando Sta arrivando Scappa Vai, è morto uno Madonna Eh manca lui Cioè noi gli abbiamo tolto un cacchio No ma non è lui, è un altro Ah bene Aia Allora, l'armatura gli l'abbiamo tolta Sì Occhio che ce n'è un altro Ce n'è un altro, si sta avvicinando Oddio Io sto andando giù Con lo shotgun Maledetto bastardo Mi ha quasi ucciso Vediamo se la mina Fa qualcosa Ma cazzo non gli ha fatto niente Non è possibile Eh ma vai a cagare Sarola Io poi qua sono pure incastrata Sono topo in trappola Dove sei? Ah sei giù tu Sotto Io sono su morto E chi c'è vicino a te? Eh c'è quello con lo sciolo Ma ha uno sputto di vita Ha uno sputto di vita Eh vediamo aspetta Tu sei sopra Se riesco a venire sopra E a mettere Eh no Non funziona Non mi sa Funziona 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 Io non vedo niente Sto rianimando io Ah sì? Ma io non vedo Ma comunque funziona Vabbè magari ci vuole di più Mastardo Oh Eh che cavolo Mamma mia Aspetta Allora dove è andato Quell'altro? È giù È giù Sta lanciando bombe a caso Aspetta Proprio il coglione Oh ciccio Lì c'è anche un kit medico Fammi vedere se qua c'è qualcuno Ci sarà qualcuno qua Oh 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 Chi è che mi ha sparato? Lui È lui Sta fuori Sta fuori Sì sì è fuori Però Aspetta Abbiamo preso qualcosa di esplosivo Aspetta Allora cerchiamo di farlo fuori da qua Tra poco posso rimettere Ma quasi più l'armatura Continuiamo così Da qui Tranquilli Tranquilli Sì 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 Mentre lampadario di merda Non mi posso spostare dall'altra parte Perché se no non lo becco Capito? Sì sì No ma stiamo qua Io starei qua Proprio Intanto mi sa che c'è solo lui Ma dici io vedo altri No Secondo me no Dici Dici Sì Beh comunque concentriamoci su di lui Ah sì assolutamente Chi si muove da qua? Vai che non ha più l'armatura Allora Non si espone più il maledetto Aspetta Lancio un'altra mina Vediamo se Funziona Sto facendo quello shotgun Vai vai L'abbiamo è morto Mamma mia Sgombra l'aria Sgombra l'aria del battaglione No dai Ma non la ditelo Ci sarà qualcun altro Ma dove? Questo è il problema Qua non c'è nessuno Qui No Attenzione eh Attenzione No Se fidiamo Non se fidiamo Avanti a noi stanno comunque Vai ho preso un po' di roba Per cui anche kit medici Ma forse dobbiamo uscire? Forse Sì sento delle voci Sì ecco ecco C'è anche un cecchino Lei maccia sua C'è un elicottero Ma dov'è? Non lo vedo Cecchino là Sulla impalcatura Aspetta Cos'ho visto Ecco Tra poco posso rimettere Vai Bastardo È morto È morto Ma c'è qualcun altro Eccolo Eccolo L'ho visto È un altro cecchino Attenzione Aspetta Dove va L'ho preso L'ho ripreso Vai Madonna Mamma mia Non doveva andare così Merda Cerca di essere estremamente prudente Credo che tu abbia tirato l'attenzione agente Eh Come minimo È stata un'odissea questa missione No veramente 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 Voi Non avete visto Per intero Ma Perché sicuramente Taglieremo dei pezzi Ah sicuro Sicuro Per forza Per forza Ma veramente Adesso Aspetta Ballo Ballo Perché sono contento Adesso salutiamo Scusa Da che parte Ti sei messo Guarda come siamo Aspetta Aspetta C'è una prova Da visionare Visioniamola Ah sì Ok Giusto Giusto Aspettiamo Datti di sorveglianza Ancora non posso credere A quello che è successo Nella zona nera Lo so Era nostra Avevo ragione io Ma ci hanno fatto Ritirare lo stesso E abbiamo lasciato Indietro i nostri Sì E non andrebbe fatto Ascolta Noi non lasciamo Indietro nessuno Siamo qui per evitare Che la città Venga abbandonata Ma la gente Con cui stiamo lavorando Non si trebbe scrupoli A voltarci le spalle Se fosse la cosa Più comoda da fare Guarda Non sono d'accordo Con tutte le decisioni Prese ma Sto dicendo Che è il momento Di lasciare indietro loro Il loro modello Non funziona più Dobbiamo liberarci Prima che ci affondi Se siamo furbi Prima che ci uccida Questo è tradimento È solo buonsenso Guardati attorno Non c'è più niente Da salvare La GTF Vuole salvare Una Manhattan Che non esiste più Ormai è solo Una questione di potere Di potere e sopravvivenza Loro avranno anche mollato Ma io no E tu nemmeno Non se lavori con me Cazzo Da non crederci Questo è più Nichilista di me Signor Rhodes Lasciamo che la gente Si faccia una sua idea Sul filmato Ok Però concordo Pazzesco È tradimento Alto tradimento Sì Ok Va bene Metiti in posizione Per cortesia Dall'altra parte Magari di faccia Alla telecamera Grazie Ben grazie Hai visto Sono perfettamente in posizione Perfettamente in posizione Stradamente oggi Una cosa è andata bene Ecco Aspetti Ricarico Ok Sì Aspetta Aspetta Ok Allora Grazie per averci seguito Questo episodio È stata un'odissea Lo possiamo dire Guardi Grazie per averci seguito E ci vediamo Al prossimo episodio Esattamente Ciao Ciao a tutti Non mi ricordo come si saluta No Fai il triscia Bravo Ecco lui sempre Il suo domenico Vabbè Ciao ragazzi Ciao a tutti Ciao Ciao ciao